Un'altra volta combatterete il primo all'inizio, rate armi e paracadute. Un'altra volta autorizzato su agli minacchi, manca attenzione la storia. Minacione. All'opso. L'obiettivo principale è il denaro, l'abilità si farà boh. All'opso. Grazie a tutti Grazie a tutti Do' cazzo è? Sto figlio Mamma mia Che colpo Nooo Identità bersaglitaria confermata, diamogli la caccia Ho 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 oh oh ma ma è che è match oh 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 ok ecco è e Sì. Cazzo, cazzo! Cazzo, che match! Cazzo! 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 la ricognizione nemica Sì, 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 sì. Bella, bella, nice match, guys. Very nice game. Very nice game. identificati, parate avvita nooo, it's too far, guys, too far, we cannot make it I don't think so I don't think so but I think so yeah 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 Tu cazzo sta in acqua Eccolo Sì come on Yeah Here 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 Che match Mamma mia Thank you guys Very nice match Thank you